come di consueto dopo la puntata del grande fratello vip in diretta su canale 5 nella casa più spiata d'italia si è respirata un'aria avvelenata l'esito del televoto che ha decretato oriana marzoli come la preferita dal pubblico ha già cominciato a mettere a dura prova gli equilibri della casa gettando nello sconforto alcune dopodiché uno dei momenti più salienti della serata è stato sicuramente l'intimo discorso avvenuto tra alfonso e ivana signorini infatti ha voluto approfondire maggiormente ciò che si cela dietro la rottura di una delle coppie più amate del programma quella formata da luca onestini e ivana mistera gio chiamata in disparte dal conduttore la mistera giova ha vuotato il sacco e ha confermato i rumor che parlavano di una mancata vicinanza da parte di onestini nel momento più buio dell'ex fidanzata ossia quando suo padre è venuto a mancare dopo la diretta luca è venuto a conoscenza della chiacchierata ed ha addirittura tirato in ballo gli avvocati il direttore di chi ha voluto parlare da solo con la modella cieca chiudendo il collegamento con il resto della casa per avere una conversazione completamente sincera rimasti soli signorini ha cominciato ad indagare e ha rivelato che secondo lui uno dei motivi per i quali ivana e luca si sono lasciati sarebbe la distanza che si era venuta a creare tra di loro durante la pandemia unita alla perdita del padre di lei la mistera giova non ha dissentito ammettendo che si sarebbe aspettata un supporto maggiore dal suo ex compagno ebbene al termine della puntata la vippona ha raccontato a luca tutto ciò che era successo ma il 30 n non l'ha presa affatto bene e ha minacciato di querela te non hai capito amore una cosa a me non la devi fare mentire perché io faccio pubblicare tutto muovo gli avvocati perché poi non ti conviene e dopo piangi che fai una figura di merda asterisco le bugie non mi piacciono mi hai lasciato te adesso vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola e prega che tu non abbia detto ca asterisco asterisco a te se no ti faccio un mazzo così